La più bella eredità che si lascia a chi ci segue è la fede, maturata in una vita consacrata. E questo è il tema dell'omelia di Papa Francesco questa mattina nella messa a Casa Santa Marta. Il Papa ha ricordato la vita di re Davide che regnò su Israele per 40 anni e il suo discorso di commiato al figlio Salomone. La fine della vita è un pensiero che non ci piace tanto, ha detto il Pontefice, ma è proprio prima della morte, all'ultimo passo del cammino terreno, che viviamo il momento più alto, quello in cui lasciamo in eredità il nostro esempio. Papa Francesco ha ricordato una suora conosciuta in una delle udienze del mercoledì, una religiosa di 83 anni gravemente malata che si preparava con serenità alla conclusione del suo percorso terreno per cominciarne un altro. Queste cose ci fanno bene, ha commentato il Papa. Davide lascia in eredità al figlio Salomone il regno, ma soprattutto la fede. Anche a noi, ha concluso il Pontefice, farà bene pensare quale eredità lasciamo con la nostra vita. Lascio l'eredità di un uomo, una donna di fede? Ai miei lascio questa eredità? chiediamo al Signore due cose. Non avere paura a quest'ultimo passo. Come la sorella dell'udienza di un mercoledì. Sto finendo il mio percorso e incomincio l'altro. Di non avere paura. E la seconda, che tutti noi possiamo lasciare con la nostra vita, come la migliore eredità, la fede. La fede in questo Dio fedele. Questo Dio che è accanto a noi, sempre. Questo Dio che è Padre e non delude mai. La fede in questo Dio fede. Grazie a tutti.